Il Consiglio di Stato ha sospeso con ordinanza immediata gli effetti della sentenza del Tar Campania, che aveva accolto il ricorso della Regione relativo all'accordo per la coesione da definire con la Presidenza del Consiglio, fissando l'udienza di merito al 13 giugno. Lo riferisce in una nota il Ministero per gli Affari Europei, della coesione del Sud e del PNRR. In particolare, come si legge nella nota, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l'operato del Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud della Presidenza del Consiglio. Ciò significa, spiega la nota, che non vi è stato alcun inadempimento da parte del Dipartimento e che pertanto non vi sono mai stati presupposti per ipotizzare la nomina di un commissario ad acta, che lo stesso Tar Campania aveva peraltro indicato come meramente eventuale. Prendo atto positivamente di questa ordinanza, è stato il commento del Ministro Fitto. Per quanto ci riguarda, proseguiremo nelle interlocuzioni necessarie a definire l'accordo per la coesione con la Regione Campania, confermando un approccio pienamente collaborativo che ha già portato alla sottoscrizione di 17 accordi e all'avanzamento nella definizione dei restanti quattro. De Luca ha invece commentato la decisione del Consiglio di Stato nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook. Noi siamo pronti come sempre al massimo di collaborazione con tutti e ci attendiamo che si arrivi a una rapida definizione dell'accordo. E sulla data dell'udienza ha aggiunto Chiediamo sia anticipata perlomeno di un mese, perché per fare la programmazione culturale si arriviamo a giugno. I tempi non ci sono più.